eccoci qua ben trovati oggi la musica ci porta da un carissimo amico canto autore e con noi felice pacito finarte udici salve è un piacere essere con voi essere oggi in onda e parliamo un ecco di sviscerare le argomenti che vini che mi sottoporrai ma allora a noi piace tantissimo il brano che ci hai mandato sushi misto portaci dentro questo bel brano diciamo anche buon appetito perché ci sta guardando allora il sì sono contento che insomma che vi piaccia è un brano abbastanza particolare un po diverso da quelli che avevo scritto finora e il brano era partito un po per 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 gioco dovevamo con degli amici affrontare ecco una serata live io pomeriggio ho buttato giù delle righe così e alla fine della serata ho detto ragazzi guarda c'ho questa cosa vi vorrei far sentire e loro mi dicono ma come no c'è una cosa scansonata così non c'ha senso non c'ha poi il giorno dopo stavamo ecco in studio e tutto nasce comunque da una cena dove solitamente andavo con la mia con la mia ragazza e prendevamo sempre sto piatto nostro ristorante delle mie parti si chiama taiwan e ovviamente il nome del piatto era sushi misto quindi detto ho un titolo adesso basta scrivere tutto il resto è venuto tutto dal piatto il titolo e poi hai sviluppato il brano senti felice come ti sei avvicinato al mondo della musica da quanto tempo allora che io ricordi comunque per la musica c'è avuto sempre comunque passione interesse in senso un pochettino più pratico forse avevo 15 16 anni perché attraverso insomma dei campi scuola vedevo questi miei amici suonare la chitarra io non ero assolutamente in grado però comunque vedevo l'aggregazione che si veniva a creare attorno a queste chitarre a questi contesti così musicali finisce l'estate mi sono detto adesso tocca che impari pure tu perché è una cosa che ti manca che ti può dare completezza poi da allora non l'ho più non l'ho più mollata mi sono perfezionato un po mi sono accorto che canticchiando sapevo favore quello bene o male ho messo insieme le due cose come mai udi era quando avevo ce l'ho ancora c'ho un cane un labrador media grande taglia e io così come coi gatti ci parlo no hai visto quando sviluppi e tieni un dialogo tutto tuo con gli animali che siano roditori volatili canini felini e con lui insomma sci fuori questa esclamazione che poi nel tempo ho ottenuto e niente comunque vedevo che era carina cioè nel senso all'orecchio mi suonava bene piccola concisa facile da ricordare ma solo ecco ripresa quindi con lui non l'ho usata più ma la sorpresa io facciamo un gioco apriamo cassetto c'è un sogno e quale allora io vedendo pure comunque frequentando diciamo l'ambiente musicale in pianta stabile adesso da 4 5 anni in questa parte quando ho iniziato proprio col mio debutto ufficiale su tutte le piattaforme di stream iniziato a frequentare studi di registrazione o altro ho avuto anche ecco la possibilità di confrontarmi con colleghi anche più blasonati altro sono una persona molto concreta sto molto che vedi per terra non mi interessa tanto di quella che viene spacciata per ecco fama o altro che poi è legata a fattori che magari con la musica c'entrano pure poco niente a me piacerebbe un domani anche fosse una sola volta non dico riempire uno stadio perché per l'amore di dio però fare un concerto che sia un concerto una cosa una cosa bella che rimanga più per la memoria che non per le tasche ecco meglio quello non mi interessa niente già odi che vive fortunatamente però che mi si possa ricordare come anche cantante in senso stretto c'è 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 hai ragione alla fine la vita è fatta anche di soddisfazioni e di soddisfazioni che non devono portare per forza i soldi è così ci dici le pagine social e quanto sono importanti social per il tuo modo di fare musica allora sono molto importanti purtroppo come dice anche la responsabile della mia la mia etichetta che mi applico molto poco sui social cioè ci provo però sono proprio ecco trascurato in questo aspetto potrei fare di più avrei le capacità per fare più ma mi manca il tempo anche la anche la voglia perché se no poi uno si piange troppo addosso e dice no è il tempo che mi manca mi manca anche un pochettino la voglia d'applicazione comunque ho due profili social su instagram mi trovate ud.music come principale da lì potete seguire anche il secondo ovviamente anche facebook sulla piattaforma spotify mi trovate col nome ud molto semplice tre lettere e stessa cosa vale per youtube insomma sono su tutti questi questi canali che sono il primo a non frequentare ma noi si frequenteremo e non ti preoccupare scherzo allora ud ti dico grazie mille per questa bella chiacchierata grazie a te per lo spazio che è stato veramente carino simpatico gentile adoro la piattaforma al format e spero di di sentirvi presto assolutamente sì intanto non vi lasciamo al suo cimisto ciao grazie ma se dovessi scegliere la serata perfetta io e te non ho per free che tanto non c'abbiamo fretta tu prendi sempre un sushi misto o al massimo un pollo fritto tandoori senza intoppi futuri e allora sbattimento zero hai messo troppa salsa allo zenzero e se c'è un figlio sarà lunedì e noi lo chiameremo un liukeni c'ho troppa voglia di cinese di cibo giappo tailandese perché c'è un buco nello stomaco e nel tuo cuore un portami a mangiare del cibo per curare le ferite carano grigio intracite ho troppa fame per vedere persa la soglia nel bicchiere per scoprire quanto voglia c'ha di te e allora sbattimento zero andremo fuori per un anno intero e se mangiando le cassette lì ci guarderemo sole di tutti c'ho troppa voglia di wasabi hai fatto un guaio con le chiavi e ora non trovi più la porta giusta ti sei commassa per una mangusta portami a mangiare del cibo per curare le ferite carano grigio intracite ho troppa fame per vedere persa la soglia nel bicchiere per scoprire quanto voglia c'ha di te ho troppa fame per vedere persa la soglia nel bicchiere per scoprire quanto voglia c'ha di te se dovessi accendere l'ultima sigaretta ti prego amore no non mi portare fretta aica 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 Grazie a tutti.